Ho comprato un MacBook Air M1 a 600 euro. Sì, è tutto vero. Ciao e bentornati dal vostro Loretech. Come avete letto dal titolo ho acquistato un MacBook Air a 600 euro. Come ho fatto lo scopriremo insieme in questo video. Vi insegnerò un piccolo trucco per acquistare prodotti su Amazon a prezzi molto molto scontati. Ma direi di non perdere altro tempo e di fare subito l'unboxing. Questa è la scatola, si presenta in questo modo. Qua abbiamo il logo con le batterie. Andiamo a girare la scatola. Amazon Warehouse. La confezione è in ottimo stato. È solo stato rimosso il sigillo. C'era un sigillo di cartone che viene rimosso per eliminare la plastica. Quindi è stato applicato dello scotch. Ci muniremo delle nostre forbici per ogni unboxing che si rispetti. E andiamo ad aprire la confezione. Vi ricordo che questo è un prodottino usato. Condizioni ottime. C'è questo meccanismo per far uscire il nostro Mac. Lo tiriamo fuori. Anche qui è presente nuovamente il sigillo. Ok, ve lo faccio vedere. Questo è il MacBook Air. Ok, vediamo un attimo le caratteristiche. MacBook Air a 13 pollici con chip M1. Memoria unificata da 8GB. SSD da 256GB. La confezione è perfetta. Qui abbiamo di nuovo il login. L'anteprima abbiamo scelto un grigio siderale. Andiamo ad unboxarlo. Allora, cosa hanno messo nella confezione? Questa plastica di protezione. Ok, ci aiuterà a spostarlo. Qui abbiamo il cavo. USB-C, USB-C. Manca la parte di cartone per tenerlo fermo. Qua abbiamo manualistica. Ci sono anche gli adesivi. Ok, qua abbiamo la guida rapida. Apriamolo. E poi non c'è più niente. Infine, abbiamo il caricabatterie. Dove qua ancora c'è addirittura parte del sigillo di protezione che andremo a rimuovere. USB-C dovrebbe essere 30W. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Sì, esattamente. USB-C da 30W. Vediamo adesso le condizioni del nostro portatile. che era stato messo in questa busta di plastica. Vediamolo meglio. Ma io non vedo nessun tipo di graffio. Assolutamente. Allora, qui abbiamo il jack per le cuffie. Da quest'altra parte abbiamo le due. USB-C. Ok. Lo andiamo ad aprire. Ok, è partito. Qua dovrebbe partire automaticamente la prima installazione. Ma noi lo andremo a chiudere. Allora, devo dire sono rimasto per adesso molto molto soddisfatto. Volevo spiegarvi un attimo cos'è l'Amazon Warehouse Deals. È una sezione dedicata di Amazon sui prodotti usati, ricondizionati. Avete la possibilità di poter acquistare questi prodotti usati o ricondizionati a prezzi molto molto scontati. Fate la ricerca sul sito di Amazon. Troverete... Fate la ricerca sul sito di Amazon. troverete delle sezioni dedicate per ogni prodotto. La qualità dei prodotti si divide in categorie. Condizioni accettabili, buone condizioni, ottime condizioni, pari al nuovo. Tutte queste categorie sono categorie usate. Alcuni prodotti arrivano danneggiati dalle fabbriche durante le spedizioni. Altri prodotti vengono restituiti dall'utente. Ma qual è il punto di forza? Su ogni articolo c'è una descrizione dettagliata delle condizioni di usura. Quindi piccoli graffi, medi graffi, ammaccature, parti rotte, parti mancanti, cavi mancanti, manuale mancante. Quindi l'acquirente può decidere in tutta tranquillità che grado di usato acquistare. Chiaramente anche il prezzo sarà proporzionato al grado di usura. In alcuni periodi dell'anno vengono fatti degli ulteriori sconti sulla sezione di Amazon Warehouse Deal. Come in questo periodo in cui fino a fine mese ci saranno delle offerte sull'Amazon Warehouse Deal. Offerte di primavera in cui verrà applicato il 20% di sconto. Per cui andate su questa sezione e date un'occhiata. Se c'è qualcosa che vi interessa potete acquistarlo. Il punto di forza è la garanzia. Avrete infatti 24 mesi di garanzia. Potete dormire sogni tranquilli. Amazon vi aiuterà in ogni circostanza. Ed è per questo che ho deciso di acquistare questo MacBook Air M1. Ho sempre comprato molti prodotti di fascia medio alta, sempre nuovi. Volevo dare una possibilità. Sono rimasto veramente molto colpito. Come avete visto nell'unboxing il prodotto è praticamente pari al nuovo vedrò. Ora la percentuale di batteria residua. Tutti gli accessori sono compresi. Non ho trovato nessun graffio. Sono veramente molto contento del mio acquisto. Nel prossimo video lo andremo a installare passo passo così da farvi vedere tutti i passaggi e che programmi io vado a utilizzare per questo MacBook Air M1. Ma adesso aspetto a voi fatemi sapere qui sotto nei commenti conoscevate questa sezione segreta tra virgolette di Amazon. L'Amazon Overhouse Deal. Vi piacerebbe risparmiare tanti soldi? Beh, cosa aspettate? Andate a dare un'occhiata. A questo punto non mi resta far altro che salutarvi da MacBook Air M1 Amazon Overhouse Deal Loretec era tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!